non ti ho detto tutta la verità cos'è questa volta pesce 200 tonnellate da dove in giappone pesce radioattivo ora non voglio avere segreti per te devo dire che lei non mi ha mai deluso ho avuto fortuna l'africa è il primo produttore al mondo di bambini e bambini serve una cosa in particolare latte ambizioso e spietato c'è un signore là fuori che vuole vedere la cucina che cosa gli devo dire fammelo vedere tutto quello che deve vedere qui davanti a lei o si fida di me o può anche andarsene è così quando all'oms scelgono il latte da distribuire nei campi profughi non esitano scelgono questo spero di aver puntato sul cavallo giusto questa non è cucina è una guerra perché è morto tra le mie braccia era interessato alla cucina la cucina facciamo il latte senza latte il suo nome non è mercury e non è nemmeno il bravo uomo che lei crede noi siamo tutti sacrificabili io l'ho fatto con te stasera ha bisogno di qualcuno di cui fidarmi ho tutto sotto controllo vendo qualunque cosa a chiunque da per tutto allora ci vediamo misto mercurio ciao dimmai ciao 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 ciao